good morning si qui sono diciamo le 10 come dico in questi casi certo la mattina prezzi sono mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente o semplicemente david si david perchè non david lince it's june 13 2022 and it's monday here in naples a clear morning this month very still right now it is 24 fine at 228 celsius and this means that it is really 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 soft l'altra parte ormai tra pochissimi giorni sarà estate quindi anche normale a se ricarda di tutti credo che carico quello di ieri quindi oggi non lo faccio ma comunque al fiore interesse in generale ai suoi asia and you'll just see from the green roller shooter you can't see anything appunto infatti you can't see only the green roller shooter ma ha spiegato già anche i giorni perché c'è la green roller shooter quindi non mi ripeterò e quindi però ve lo dico io comunque i think it's afternoon temperato potrebbe salire l'estate l'altra parte sale quasi sempre di pomeriggio nel mondo in generale but the really important thing io dico già we have perché ormai pomeriggio è mattinata inoltrata the really important thing with this atmosphere is that today we have today we have those beautiful 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 blue skies and good sunshine that thing all along the way ovviamente qui all along the way sempre qualche ramino intendo soprattutto rispetto ai amici americani e come sapete abbiamo un orario completamente diverso bene speriamo di continuare così anche domani per cui we have and if we say that it is so from the mythical window within the orange red blue pink water curtain and it's green Green Roller Shooter, Green Roller Shooter, BNN Armindis, Desen, Qua tutta l'estate And finally, Frammamenti col keyboard, Yamaha Digix, 640, IPG, IPG, 625 Eh, poveri, great day, in all the people, follow, diciamo, dei riporti, un saluto davvero a tutti And also, I hope you all have great breakfast Io la farò tra poco, per me sono cobronte, non so se lo sentite Ma soprattutto, spero possiate consolarvi la vostra bella colazione se il tempo deve essere brutto alle vostre parti Ripeto, bellissima volta, non che non ci consigliamo sempre quando facciamo colazione Anzi, tra l'altro, la curiosità è che le due parole dette in italiano, consolazione e colazione, fanno anche rima Ma io, personalmente, nel tempo è brutto, non lo so perché, mi consola ancora di più I'll see you in the video, to be yesterday, I think, for tomorrow